Come devo farlo adesso? Mi fa il culo! Luca, c'è una soluzione! Una pistola di mio padre! No Ale, non farlo! Risolverò la mia cosa alla mia vecchia maniera! Steve, mio fratello vuole regolare i conti con te! Io non c'entro niente, giuro! Va bene! Quindi regoliamo il culo? Si! Sì! 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 Sì!